Terzo incontro nei locali della Biblioteca della Regione Piemonte in Via Confienza a Torino del Caffè Letterario, occasione per conoscere opere di autori ed editori piemontesi che proseguiranno ogni giovedì alle 15.30 fino al 18 dicembre. Questa settimana è stato presentato il libro Giornate di Sangue a Torino di Francesco Ambrosini.